Amici 22, le anticipazioni della terza puntata serale, gli eliminati di sabato 1 aprile. Sabato 1 gradi aprile torna l'appuntamento settimanale con il serale di Amici di Maria De Filippi su canale 5L21. 40. Il rete già circolano le anticipazioni. Amici 22 è giunto alla sua terza puntata del serale. Dopo l'eliminazione di Megan e Ndg, nella prima puntata, e di Piccolo G e Gianmarco, nella seconda. La stessa sorte potrebbe toccare sabato ad altri due allievi della scuola. A conti fatti, la squadra di Rudizio Erbi e Alessandra Celentano è rimasta così con solo tre allievi, Aaron, cantante. Isobel, ballerina, e Ramon, ballerino. La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuello Gareggia con, Samu e Maddalena per il ballo e Angelina Cricca per il canto. Il team di Arisa e Raimondo Todaro non ha perso ancora nessuno, quindi ci sono, Alessio, ballerino. Federica, cantante, Mattia, ballerino, e Wax, cantautore. Stando alle ultime puntate, tra i concorrenti che al momento sono più a rischio ci sono Cricca e il cantante del team Cuccarini Emanuello. È già finito allo spareggio finale sabato scorso e Aaron, che pare non abbia convinto ancora la giuria. Presto sapremo qualcosa in più delle anticipazioni perché le registrazioni dello show che andrà in onda sabato sera. Sono previste per oggi, giovedì 30 marzo. Nell'attesa, sono partiti già i primi sondaggi sul possibile vincitore di questa 22esima edizione. Tra i favoriti c'è Angelina. La cantante, figlia di Mango, della squadra di Lorella Cuccarini e di Emanuello. Con la sua voce finora ha messo tutti d'accordo, pubblico e giuria. La cantante, figlia di Emanuello. La cantante, figlia di Emanuello.